E' fissata per domani mattina, probabilmente nel carcere Pagliarelli di Palermo, l'udienza di Comalida dell'arresto di Giovanni Luppino, 59 anni, l'uomo arrestato lunedì mattina insieme al boss Matteo Messina Denaro. E' stato proprio Luppino, commerciante di olive, agricoltore di mestiere incensurato ad accompagnare l'ex latitante in auto alla clinica Maddalena di Palermo. L'uomo, che è un volto nuovo per gli inquirenti, è ora accusato di favoreggiamento e procurata in osservanza di pena aggravata dal metodo mafioso. Intanto l'attenzione degli inquirenti si concentra non solo sui fiancheggiatori, ma anche sulla gente del boss e sulle sue carte mediche. Messina Denaro è stato portato nel supercarcere dell'Aquila, dove continuerà la chemioterapia. Si trova in vicolo San Vito, in pieno centro, a Campobello di Mazzara, la casa dove si sarebbe nascosto l'ex latitante. L'abitazione, rimasta disabitata dopo il trasferimento dei proprietari, è stata perquisita e sono stati trovati vestiti di lusso e ricevute di ristorante. Conosco Messina Denaro fin da quando eravamo ragazzini. La casa in cui viveva l'ho comprata. Io con i suoi soldi, avrebbe detto agli inquirenti Andrea Bonafede, geometra di Campobello di Mazzara, che ha prestato l'identità al boss e che ora è indagato per l'associazione mafiosa. Nell'appartamento di Vicolo San Vito non sarebbero stati scoperti documenti esplosivi o carte compromettenti, ma lì è stata trovata l'agenda del boss che potrebbe dare spunti investigativi importanti, così come potrebbero fare tantissimi documenti sanitari, referti di visite specialistiche, molte oculistiche, sostenute da Messina Denaro negli anni, recuperati in uno scatolone. Le cartelle mediche dimostrano che capo mafia incastrato proprio grazie all'inchiesta sulle gravi patologie di cui soffre durante la latitanza ha incontrato diversi dottori. Infatti, oltre al medico di base Alfonso Tumbarello, di 70 anni, di Campobello di Mazzara, che aveva firmato le prescrizioni per Andrea Bonafede, alias Matteo Messina Denaro, nei guai ha anche il primario del Sant'Antonio Abbate di Trapani, Filippo Zerilli, primario di Oncologia. L'ipotesi di reato in questo caso si chiama procurata in osservanza della pena, aggravata dalla circostanza che il destinatario della condotta è un boss. Ieri dai carabinieri è stato diffuso anche il video del momento in cui il boss entra alla Maddalena, dove è stato arrestato, ripreso dalle telecamere di sorveglianza della struttura sanitaria, dove era in cura Palermo. Matteo Messina Denaro è sorvegliato 24 ore su 24 in una cella di poco più di 10 metri quadrati, nel supercarcere dell'Aquila, dove è arrivato la stessa notte del giorno dell'arresto, prima con un volo militare da Palermo a Pescara e poi scortato in auto verso il capoluogo, dove sorge il penitenziario italiano, con il maggior numero di detenute al 41 bis. Sarà la nipote Lorenza Guttadauro, illegale di fiducia del capo mafia, la penalista e figlia della sorella del boss Rosalia e di Filippo Guttadauro, suo nonno paterno e lo storico boss di Brancaccio, Giuseppe Guttadauro. La nomina non è stata ancora ufficializzata, ma preannunciata la professionista, si dice sorpresa della nomina ricevuta che ancora non l'è stata notificata.